Ragazzi buongiorno subito aggiornamenti di mattina che parleremo e andremo ad affrontare a spulciare per bene nella live di oggi pomeriggio 14.30 quindi mi raccomando non mancate allora ce ne sono due sostanzialmente di notizie due a parte il discorso allenatore che è tutto rimandato a inizio della prossima settimana che dovrebbe essere anche giorni in cui arriverà il nuovo DS giuntoli sappiamo bene che il congiunto, le allegri, il 99,9% non rimarrà però poi vediamo, vediamo, possono avere ragione anche i giornalai le due notizie, scusate la voce ma in questi giorni sto parlando veramente tanto le due notizie importanti sono che come si diceva nessuno è incedibile in questa Juventus quindi se si cerca di ripianare un bilancio, cercare tra abbassamento e ingaggi, riduzione e ingaggi scusate l'italiano un po' scorretto e entrate dalle cessioni non possiamo non citare Gleison Bremer in cui sarebbero già arrivate alla Juventus offerte dalla Premier League si parla su una cifra di intorno ai 60 milioni di euro e per quella cifra ovviamente non è incedibile neanche Bremer in più Federico Chiesa che spinge per un rinnovo dice certo io rimango però voglio X milioni si parla di 8 milioni ora con tutti i bene ti voglio Chiesa per 8 milioni tu puoi fare la fine di rabbio perché siccome nessuno è incedibile e sono d'accordo ai campioni per provare a vincere bisogna tenerli ma a te chi me lo dimostra e tu sia veramente ancora un campione dopo l'infortunio nonostante che l'infortunio abbiano avuto tantissimi giocatori Chiesa sta dimostrando ancora che è proprio fuori 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 condizione quindi ne sono incedibile la cessione di questi due porterebbe nelle casse bianconere 100 milioni ma la cosa triste è che quei 100 milioni non ne verrà investito quasi niente sul calciomercato ovviamente si dovrà cercare un difensore un difensore si sta pensando sempre di più a Pau Torres perché è il difensore centrale di sinistra che ci manca quindi se va via Bremer molto probabilmente arriverà a Pau Torres vediamo 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 ne parliamo oggi pomeriggio in live 14.30 mi raccomando non mancate che ha altra cosa Conte è molto vicino alla panchia della Juventus fino alla fine